buongiorno a tutti scusate buongiorno a tutti come potete vedere il sole lo faccio vedere se riesco buongiorno a tutti da camper experience il sole sta sorgendo e sette un quarto e niente la prima notte dicevo la prima notte in camper con il freddo come potete vedere vi faccio vedere il piumone il piumone ha ancora ugliato qui dietro comunque niente ha partito lo zoom come dicevo una ricalculazione ci facciamo in base di cordetto e succo la pera ci diamo una raccolta su e iniziamo a fare il lauretto del tavolino oggi è un po' freschetto però linea alla regia